Sto investendo in obbligazioni di lungo periodo? No, ti dico la verità no. Per me è ancora presto per allungare di molto la scadenza delle obbligazioni. Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente e fondatore di Atene SCF, società di consulenza finanziaria indipendente. Aiuto le persone ad investire in maniera efficiente i propri risparmi. In questo video voglio fornirti una visione contraria rispetto alla visione che in questo periodo storico sulle obbligazioni, sulle obbligazioni in particolare a lunga scadenza, hanno i risparmiatori, investitori, banche e gestori di fondi. Se mi segui sai che mi piace essere un po' un contrario di un investor. Sono un contrario di un investor, tendo ad avere opinioni differenti e tendo a muovermi in maniera differente sui mercati finanziari. Voglio parlarti del perché potrebbe essere ancora troppo presto per investire e puntare in obbligazioni a lunga scadenza. Quindi del perché potrebbe essere troppo presto per puntare su obbligazioni con un'elevata duration. Duration e scadenza in finanza sono due concetti diversi, differenti. Teniamo il video più semplice possibile, poi metteremo i puntini su lei magari in un altro video. Come si stanno muovendo investitori, banche e gestori di fondi per la parte obbligazionaria? Stanno puntando e stanno acquistando obbligazioni a lunga scadenza. Perché? Perché per quanto riguarda l'obbligazionario e per tutto il mondo delle obbligazioni c'è una relazione inversa tra prezzo e rendimento. In sostanza, te la faccio semplice, quando vengono abbassati i tassi di interesse i prezzi delle obbligazioni salgono. È una relazione logica e anche matematica. La vedremo magari in un prossimo video. Questa relazione è tanto più forte quanto è più lunga la scadenza dell'obbligazione e quanto più bassa è la cedola che paga l'obbligazione. Se l'obbligazione paga una cedola nulla, questo effetto è ancora più forte. Quindi ad una piccola variazione dei tassi di interesse in discesa, le obbligazioni a lunga scadenza senza cedola, con una cedola bassa, salgono tanto di prezzo. E questa salita, questo effetto è ancora più forte quando la variazione dei tassi parte già da magari un tasso zero o negativo. Lo vedremo anche questo in un prossimo video. Diamo per valido che quando calano i tassi di interesse salgono i prezzi delle obbligazioni, salgono tanto i prezzi delle obbligazioni a lungo periodo. Quindi l'investitore pensa, dato che verranno abbassati i tassi di interesse, io punto sulle obbligazioni a lunga scadenza così faccio un bel capital gain, faccio i soldi. Dopo me le rivendo in guadagno. Personalmente non mi sto muovendo ancora così. Quindi non ho puntato su obbligazioni a lunga scadenza, non ho allungato di tantissimo la duration. Sono focalizzato al momento su obbligazioni a 5 anni o anche con scadenze inferiori. Perché ho una visione non del tutto contrastante rispetto a quella del mercato, però una visione in parte è diversa, te ne voglio parlare, e comunque tengo ben a mente, tengo presente il rapporto rischio rendimento. Se non tenessi conto di questo rapporto probabilmente anch'io avrei già allungato la duration. Ma dato che ne tengo conto ancora non l'ho fatto in maniera sintetica. Quindi ti porto la mia visione in questo video che in parte è diversa. Perché non ho investito ancora in obbligazione a lunga scadenza? Uno perché non è assolutamente detto che i tassi di interesse andranno a scendere. O scenderanno di tanto per un'intensità elevata e magari scenderanno nel breve periodo, nel brevissimo periodo, come si aspetta il mercato. Non è detto. Chiunque afferma il contrario è un ciarlatano. Nessuno può sapere cosa succederà ai tassi di interesse. Potrebbero aumentare, addirittura diminuire, restare fermi. Le variazioni potrebbero verificarsi a breve, tra un po' o tra tantissimo. E la variazione, l'intensità di questa variazione dei tassi, può essere esigua, media o elevata. Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Se guardiamo questa immagine dei tassi di interesse degli ultimi 5.000 anni, notiamo in realtà che siamo a media. Non siamo a valori troppo elevati né troppo bassi. Siamo in media. Quindi tieni presente che potrebbe pure succedere che magari i tassi non vengano riabbassati nel brevissimo periodo e magari i tassi non vengano riabbassati con un'intensità elevata. Potrebbe pure non succedere quello che si aspetta ad oggi il mercato, perché il mercato sta scommettendo l'aspettativa che i tassi verranno abbassati a breve e verranno abbassati tanto. Magari non succederà, cioè non per forza. È chiaro che anche io lo dico, nel senso che dopo la salita repentina che abbiamo avuto nei tassi di interesse, è più probabile che si verificherà un ribasso dei tassi. È più probabile, però nessuno lo può sapere. Potrebbero pure continuare a salire. Neanche le banche centrali lo sanno. Ci hanno lasciato intendere che siamo arrivati quasi alla fine del rialzo dei tassi. Forse ci saranno delle diminuzioni, però bisogna vedere anche come si muove l'inflazione, come l'economia e altre variabili. Non lo sanno neanche le banche centrali in realtà, quindi nessuno può saperlo. Quindi questo è già un primo motivo. Io non do per scontato che scenderanno a brevissimo i tassi e per un'intensità tale che si aspetta il mercato. Io ho un'altra aspettativa. Nel senso, secondo me, e secondo un altro esperto che adesso vedremo, a breve te ne parlerò, i tassi verranno abbassati sì, ma più avanti rispetto a ciò che pensa il mercato è per un'intensità minore rispetto all'aspettativa di mercato. Quindi questo è il primo motivo. Non è detto che i tassi di interesse scendano e scendano a breve. Non è assolutamente detto. Potrebbe essere probabile, ma non è detto. Può darsi che scendano, ma per un importo diverso e per un'intensità diversa e più avanti. Secondo motivo è che la puntata sulla duration non è ben retribuita ad oggi. Questo non lo sostengo solo io, per rapporto-rendimento, rischio-rendimento intendo. Questo non lo sostengo solo io, ma anche Arley Bassman, che è l'esperto della convexity. Convexity è un concetto finanziario che quasi nessuno conosce. Se volete, se magari vi può interessare, fatemelo sapere nei commenti. Porto un video su duration, duration modificate e convexity. Quasi nessuno sa della convexity qui in Italia, se non pochi, veramente pochi la conoscono, questo concetto. E il 99% di investitori in obbligazionario, quindi obbligazioni singole o ETF o comunque fondi in obbligazioni utilizza male il concetto di duration modificata. Quindi se volete, porto un video di approfondimento su queste tematiche. Comunque questo soggetto, questo professionista, Bassman, è l'esperto della convexity e ci sa fare sui bond. In un podcast di Bloomberg, che ti consiglio, ti lascio sotto in descrizione, ti consiglio di ascoltare, cosa ci dice Bassman? Dice in sostanza che, secondo lui, l'inflazione rimarrà alta a causa di millennials che sono arrivati comunque in una fase della loro vita dove hanno la famiglia e hanno delle spese da dover sostenere, quindi faranno aumentare comunque la domanda, terranno una domanda abbastanza alta di beni e servizi, ma soprattutto a causa dei boomers che sono andati in pensione, lo dice lui nel podcast, con più soldi di tutte le generazioni precedenti, perché si sono presi tutti i soldi, ma lo dice lui, del mondo. Hanno fatto soldi con le case, con gli immobili, con l'azionario, l'obbligazionario e così via. Quindi le generazioni precedenti, una volta in pensione, andavano a ridurre i consumi, questa volta non sarà così. Terranno i consumi elevati, secondo lui, quindi l'inflazione rimarrà alta, secondo questo professionista. Questo si traduce nel fatto che, probabilmente, non sarà semplice per le banche centrali raggiungere il target dell'inflazione del 2%, o comunque non sarà raggiunto a breve questo target. Poi, secondo lui, Powell manterrà i tassi di interesse alti a lungo, quindi non li farà diminuire tanto subito. Li farà diminuire, secondo lui, a luglio, secondo questo professionista a luglio, e anche secondo me, ma li farà ridurre per un'intensità minore rispetto alle aspettative di mercato. E anche io ho questa visione. Quindi ho trovato, io sento diverse campane, tutti hanno la visione classica, che i tassi scenderanno a breve per un'intensità, cioè lo riportano magari a zero. Questo professionista ha una visione simile alla mia, quindi te ne ho voluto parlare. E se vuoi ascoltare il podcast, insomma, lo sentirai che va ad affermare questo. Nel podcast, Bassman ci parla di tre leve dell'obbligazionario. Ci parla della leva del credito, della leva della duration e della sua leva preferita, della convexity. Per quanto riguarda il credito, il rischio credito, che cos'è? Il rischio che l'emittente praticamente non fa fronte ai suoi oneri, quindi non ti ripaga le cedole e non ti ridà il capitale. Quindi è il rischio che magari potresti non vedere indietro il tuo capitale che hai messo a rischio. Per puntare sull'obbligazione e guadagnare sul rischio credito, che fai? Vai a puntare su emittenti meno solidi, in sostanza, e speri che il rischio credito si vada a ridurre nel corso del tempo. Lui però dice, e qui gli do ragione tutta la vita, lui dice, ad oggi non ha molto senso sulle obbligazioni puntare sul rischio credito. Perché? Perché è troppo poco retribuito il rischio credito, nel senso che se vai ad acquistare un'obbligazione speculativa ti viene pagata troppo poco di più, te la pagano di più per carità, però non è tanto di più rispetto ad un'obbligazione investment grade, con un emittente solido. Quindi lui dice, ad oggi non ha assolutamente senso per rapporto rischio rendimento, e io gli do ragione al 100% qui, puntare sul rischio credito per fare i soldi con le obbligazioni. E è difficile dargli torto. Afferma che inoltre è da tenere presente che abbiamo assistito ad un'inversione della curva dei rendimenti, ci sarà una probabile recessione alle porte e quindi il rischio credito non può far altro che aumentare, non è che si andrà a ridurre. È più probabile che vada a aumentare, quindi non ha senso puntare con le obbligazioni per guadagnare da questa tipologia di rischio. Non ha senso. E come afferma anche Ray Dalio, Bassman crede che non nel 2024, ma nel 2025 ci saranno i primi default, i primi default seri e quindi si verificherà il rischio credito, andrà ad aumentare il rischio credito. Quindi dice, state attenti nel puntare nel rischio credito, nel guadagnare da questa tipologia di rischio, da questa leva dell'obbligazionario. Poi ci parla della seconda leva dell'obbligazionario, quindi la duration. Noi per guadagnare soldi sulle obbligazioni possiamo puntare su obbligazioni con duration bassa, media, alta o veramente molto alta. La duration è quando riavrò indietro i miei soldi, i soldi che ho messo a rischio nelle obbligazioni. Ed è un concetto diverso da duration modificata, lo vedremo in un prossimo video. Cosa ci dice? Ti vado a leggere direttamente, dice che se vai a comprare un bond a due anni in questo momento e la Fed taglia di un punto percentuale i tassi di interesse, quindi di 100 basis point, il titolo a due anni sale dell'1,8%, il titolo a 10 anni sale dell'8%, un titolo a 30 anni sale del più 17%. Attualmente dice, per come è la curva dei rendimenti, il fatto di puntare in un'elevata duration non è ben retribuita, rapporto rischio-rendimento. E questo è vero anche secondo me. Quindi lui dice, il miglior trade che si può fare ad oggi, però è difficile farlo per la persona comune, è puntare in una curva dei rendimenti ancora più ripida, ancora più in salita. Quindi dovremmo puntare e ragionare così. Dice che il rischio di puntare su un'obbligazione con un'elevata duration non è ben retribuito ad oggi. Lo sarà secondo lui in futuro, quando magari si verificherà una recessione, quando saremo proprio alle porte di una recessione. Quindi lui dice, meglio puntare sui titoli per l'investitore comune a 5 anni o con una scadenza ancora più bassa dei 5 anni, poi tra un po' investire su obbligazioni con un'elevata duration, quindi aumentare la duration dopo, che è quello che sto facendo anche io. Quindi mi ritrovo al 100% con ciò che dice lui. Se ragioniamo anche rapporto rischio-rendimento, ad oggi non ha ancora tanto senso allungare la duration. So che è difficile da capire e da comprendere, però non ha ancora molto senso il rapporto rischio-rendimento. Lo avrà probabilmente più avanti. Poi ci parla della leva della convexity. Lui dice, un altro trade da fare sulle obbligazioni sarebbe quello di vendere convexity e quindi vendere opzioni, quindi vendere call, fare covered call con bond, quindi vendere la call sul bond che hai già in portafoglio e vendi convexity in sostanza, oppure vendere put su titoli che non hai già in portafoglio. Però più che altro lui dice di fare la covered call sui bond che si possiedono in portafoglio. Lui prevede una diminuzione della volatilità. Perché? Perché l'indice move, che è una sorta di VIX dell'azionario, il move però è sull'obbligazionario, dato che è alto, dice probabilmente andrà a ridursi la volatilità sulle obbligazioni. Se vendi opzioni, i premi delle opzioni scendono, quindi ottieni un guadagno praticamente con le opzioni. Quindi i trade da fare per lui sono obbligazioni a 5 anni, vendere opzioni, però non tutti lo possono fare e solo successivamente riallungare la scadenza e la duration. Quindi anche lui dice che non è ancora il momento. Fammi sapere se questo video ti è stato utile, fammi sapere la tua anche con le obbligazioni a lungo periodo, come ti stai muovendo. Io ti ho detto la mia, per me è ancora presto, però più avanti lo farò anche io. Ma ragionando il rapporto rischio-rendimento lo farò più avanti, non ancora. Se vuoi il video sulla duration e modificata e convexity, fammelo sapere sotto nei commenti, così lo preparo e cercherò di portarlo qui su YouTube. Ciao, alla prossima!